Se avete mai ascoltato uno dei miei tre minuti grezzi saprete che Ikea è uno dei miei negozi preferiti. Oggi ho scoperto che Ikea ha aperto un museo digitale. È un sito, ma è molto più di un sito, così come c'è da aspettarsi da Ikea, visivamente molto molto exciting, molto bello da vedere e da navigare. È in inglese e in svedese, non so se poi abbiano in mente anche di aggiungere altre lingue, però si può navigare tranquillamente alla sezione in inglese. È molto bello dal punto di vista anche del design perché nella parte superiore del sito c'è una linea temporale orizzontale che va dalle radici anni 40, anni 50, anni 60, anni 70 eccetera. Immaginatevi proprio una linea con questi numeri scritti a distanza l'uno dall'altro e man mano che voi scorrete verso il basso il sito scorrono anche gli anni. Iniziando dagli anni 40 quindi la storia di chi ha inventato Ikea, chi se l'è inventata, Ingvar Kamprad e poi piano piano anche facendo vedere il loro concetto, la loro idea di design, come hanno creato i primi negozi Ikea in Svezia. Poi anche ci sono tutte le pagine di pubblicità, prima naturalmente sul libro, ad esempio ho scoperto che Ikea vendeva penne e quaderni, poi piano piano come ha ingrandito il catalogo per includere poi negli anni 50 i mobili. È un sito fantastico da sfogliare dove si vedono anche poi piano piano anche i primi cataloghi Ikea, si possono sfogliare un po' anche quelli e poi quando si arriva agli anni 80, agli anni 90, le persone di una certa età riconosceranno anche le campagne portate avanti da Ikea per cominciare dalla diversità. Ricordate le copertine dei cataloghi Ikea che erano i primi luoghi dove si vedevano le famiglie miste, le famiglie con persone che provenivano da diverse parti del mondo, insomma le famiglie vere come sono nella vita reale. Quindi è un ode a Ikea, è un tripudio di Ikeismo e di Ikeitudine. Io credo che trascorrerò il resto della giornata a spulciare e a guardare le diverse copertine, diversi cataloghi e le ispirazioni che dà questo posto che non finisce di sorprendermi. L'unica cosa che spero è che anche Cagliari presto abbia un bel negozio Ikea, ne abbiamo uno ma è molto piccolo, è uno di quelli a più piani, a 3-4 piani anche col ristorante. Il ristorante Ikea che era uno dei posti preferiti quando mio figlio era piccolo perché era l'unico posto dove lo potevo mettere sul tavolo e fargli fare tutto quello che voleva Ikea.